Sì, bene, è normale, è difficile il ritiro, però stiamo lavorando bene e prepariamo piano per la nuova stagione. Sì, sono contento qua, conosco il mister e tutti qua, sono entrato bene in questa famiglia di Crotone, i tifosi e tutti, è normale, tutti i grandi aspetti di noi, però la nostra parte possiamo migliorare i risultati. Sì, sono contento perché siamo rimasti tanti qua l'anno scorso e penso che quest'anno possiamo fare un grande risultato. Grazie. 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 Grazie.